Il Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Alessandro Morelli in visita oggi in Abruzzo accompagnato della Lega Locale per affrontare tematiche infrastrutturali e prospettive di rilancio del territorio anche alla luce di nuove risorse disponibili. Prima tappa in Regione Abruzzo per un incontro con il Presidente Marco Marsilio. Nella giornata abruzzese sono stati affrontati diversi temi tra cui opere pubbliche e commissariamenti che secondo Morelli hanno consentito di velocizzare le procedure e l'Aquila in questo senso può diventare un esempio. La necessità di velocizzare sicuramente i collegamenti con la capitale quindi questo è un argomento che porteremo al tavolo del Ministero questo è fondamentale. L'Abruzzo è una regione che merita tanto, ha dato tanto, ha pagato tanto in questi anni però devo ammettere che il lavoro fatto, il lavoro svolto è un lavoro encomiabile. Detto questo c'è stato un cambio di passo impressionante proprio a seguito della legge che ha permesso i commissariamenti questo è un dato oggettivo importante che raccogliamo, porteremo a Roma per dimostrare ancora una volta di più quanto sia necessario intervenire immediatamente sul codice degli appalti. L'Aquila può essere presa come esempio come vera e propria sperimentazione per quanto riguarda i commissariamenti che dovranno diventare una norma dello Stato proprio per evitare che ci siano continue derove. Uno dei temi locali però più importanti è la città che vuole essere inserita nel collegamento ferroviario Pescara-Roma, tema che il viceministro conosce grazie al deputato Luigi Deramo, una possibilità che sarà messa in agenda detto. Il fatto che un capoluogo di regione abbia un collegamento rapido con la capitale è logica e sta nelle cose quindi questo è diciamo un compito che inseriamo nell'agenda e porteremo sicuramente al ministero. Il sindaco Biondi ha mostrato il cantiere della scuola di Santa Barbara che sarà demolita e ricostruita. A settembre potranno partire lavori, le procedure oggi sono più veloci. Da quando c'è la struttura commissariale credo di aver firmato un centinaio di decreti. Abbiamo avviato, stiamo avviando lavori per oltre 30 milioni di euro, fra l'altro anche in condizioni complesse. In Italia serve snellire gli appalti pubblici e questo tema arriverà ancora più prepotentemente nel momento in cui il recovery entrerà a pieno regime e quindi ci sarà necessità di una spesa rapida per aumentare il PIL e quindi ridurre il rapporto con il debito. Tappa anche sul Gran Sasso per un sopralluogo con il commissario straordinario Corrado Gisonni dal momento che si stanno facendo dei lavori di messa in sicurezza molto importanti.